Buona giornata! A volte le difficoltà nascono perché diciamo sì troppo in fretta e non riusciamo a dire no in tempo utile. Questa frase è fondamentale, cioè io specialmente di questa frase ne sono vittima, perché tante volte dico sì sì si può fare giusto per non essere sempre il solito bastiano contrario, quindi ti dicono no ma devi dire sì, devi aiutare, devi essere... però a volte dire sì troppo in fretta e non riuscire a dire no in tempo utile è una cosa deleteria. Quindi ok, bisogna imparare a dire sì ma anche a dire no. Dire no è importante perché fa capire il tuo valore. Quindi oggi imparate a dire no in tempo utile. Daniel Paci, per felicità e pace, Om Santi Santi Santi. Buona giornata! Grazie a tutti!